Ed eccoci al nostro appuntamento settimanale con lo Sport Torino Weekend. Luca, Luca, siamo in ritardo per la presentazione della PMS. Tranquilla, lo sai che per anticipare i principali appuntamenti del fine settimana torinese ci impieghiamo... Meno di tre minuti, giusto. Brava, e a proposito di PMS, lo sai che sabato i giocatori saranno in centro per PMS Indeciti, l'evento con cui la squadra si presenta alla città. Esatto, alle 14.30 in Piazza Carlo Alberto. Insieme alla PMS ci saranno anche le ragazze della Palacanestro Torino. E la PMS Basketball, militante in serie C maschile. Beh, Luca, direi che è ora di iniziare con lo Sport Torino Weekend. Io sono Benedetta. Io sono Luca. E questa è Sport Torino TV. Cominciamo con le due ruote. Dopo l'ultima domenica all'insegna della Torino Vertical Bike e del Bike Pride saranno ancora protagoniste le mountain bike e le biciclette da strade, con la Superga Vertical Climb. Sabato 26 settembre spazio dunque ai bikers e ai ciclisti, ma anche ai podisti, che scaleranno i sentieri della collina di Superga da Piazza Bande Nere fino alla Basilica. La partenza è prevista per le 17.30. Passiamo ora alla Red Bull Soapbox Race. La corsa in discesa a bordo di auto senza motore e fabbricate dai concorrenti stessi. Nata nel 2000 con la prima edizione di Bruxelles, la manifestazione farà il suo esordio a Torino domenica 28 settembre. Un'occasione unica per trascorrere una giornata di puro divertimento, apprezzando la fantasia e la creatività dei partecipanti. E concludiamo con una bella gara di corsa. Domenica mattina torna l'appuntamento con la Mezza Maratona di Torino, organizzata dal Custorino in collaborazione con la Polisportiva Atletica 71 e intitolata alla memoria dell'ex sindaco torinese Domenico Carpanini. Si tratta della quattordicesima edizione dell'evento, che vedrà anche quest'anno, oltre la mezza maratona, la corsa sui 10 chilometri. La partenza sarà alle 9 al Parco Ruffini, l'arrivo sulla pista di atletica dello Stadio Primo Nebbiolo. Per oggi è tutto, i link citati li trovate nella descrizione del video qui sotto. E per rimanere sempre aggiornati sullo sport torinese, per vedere le foto, i video e per sapere dove praticare qualunque sport a Torino ed intorni, visitate il nostro sito sportorino.com. Ci vediamo la settimana prossima. Ciao! Ciao!